Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria corporate. Il premio è quello di boutique di eccellenza dell'anno corporate governance. Andiamo a leggere la motivazione. Per il know-how dei professionisti e l'approccio fondato su un affiancamento costante al cliente. Per l'eccellenza dimostrata nella practice di governo societario per società quotate e non e nel profilo del sistema dei controlli. Per la profonda e aggiornata conoscenza della normativa supportata da un'intensa attività pubblicistica. Il premio va a StarClex Studio Legale Associato Guglielmetti. Ed è un piacere avere qui con me. La invito a raggiungermi sul palco l'avvocato Romina Guglielmetti alla quale consegno subito il premio. Quella è la sua camera se vuole ringraziare. Insomma, poi dopo chiacchiereremo. Ci tengo molto a ringraziare di questo premio anche a nome del mio socio Carlo Riganti. Innanzitutto tutti i clienti che ci hanno dato fiducia in questi quasi sette anni e mezzo e ci hanno consentito di crescere. È un grazie speciale da tutti i nostri collaboratori che stanno crescendo con noi dando a loro volta un contributo essenziale per una crescita dello studio. Ottimo. Allora, le chiedo di appoggiare il premio e di accomodarsi perché così possiamo approfondire anche già quello che ha detto. Insomma, un premio, naturalmente il ringraziamento al team è sempre doveroso, un lavoro di gruppo, di sinergia, soprattutto in un anno abbastanza complicato. È un anno complicato però anche un anno di conferma per lo studio. Stiamo dimostrando di essere in grado di essere resilienti in un momento complesso e questa resilienza credo che sia un valore importante anche per le aziende e per i clienti che seguiamo. La capacità di comprendere le peculiarità delle situazioni che si stanno vivendo e la capacità di condividere il rischio di impresa anche nell'apporto consulenziale credo che oggi più che mai sia un fattore vincente. E noi cerchiamo proprio con questo spirito di affiancarci anche a chi magari in questo momento storico che è caratterizzato dal Covid e da tutte le conseguenze che ne derivano magari ha qualche difficoltà in più. Quindi un approccio proporzionato. Certamente. Beh, infatti abbiamo letto subito l'affiancamento costante al cliente. Questo è stato fondamentale perché anche il cliente ha dovuto rimettere un po' in discussione il modo di essere affiancato appunto da professionisti come voi. Quindi ancora di più una presenza costante. Sì, in momenti di difficoltà come questi dove c'è anche molta attenzione da parte del cliente i contenimenti dei costi è molto importante perché il successo delle imprese è il nostro successo. Quindi se qualche sacrificio talvolta anche in termini di onorari è richiesto secondo noi è giusto farlo perché se le aziende sopravviveranno in maniera virtuosa a questi momenti di crisi questo sarà un fattore di successo anche per noi che a queste aziende stiamo vicini. Ed è fondamentale anche non abbassare la guardia sui temi di governance e quindi rendere quei servizi che proprio quando si attraversano momenti complessi in cui le priorità sono altre rischiano magari anche di compromettere o di rallentare dei processi virtuosi di crescita in termini di governance e di attenzione anche ai rischi. Certo, quindi come guardare al futuro facendo tesoro di quello che è successo e anche portandosi appresso un riconoscimento come questo? Noi in termini di studio abbiamo intenzione di mantenere la dimensione di boutique che ci caratterizza, vogliamo far crescere progressivamente le nostre risorse che ci stanno già dando grandissime soddisfazioni e proseguire in questo percorso che come avete ben detto di affiancamento alle imprese e cercando di divulgare il più possibile anche nella piccola media impresa quei fattori fondamentali di una costruzione sana e robusta della governance che diventerà sempre più importante proprio in termini anche di ESG. Non dobbiamo dimenticare che la governance è un elemento fondamentale della sostenibilità, sostenibilità nel lungo termine delle imprese e noi vorremmo riuscire a contribuire anche ad aumentare laddove ce ne fosse bisogno la sensibilità su questi fattori perché la buona governance aiuta è un elemento fondamentale in una crescita sostenibile e quindi del successo delle imprese. Certo assolutamente insomma diciamo continuare sulla strada di base però potenziando tutti quegli aspetti che in questo momento soprattutto per le imprese sono centrali e su cui anche le imprese si devono basare insomma diciamo che deve essere un rapporto più univoco sempre di più. Assolutamente, anche perché immagino che la professione legale sarà soggetta a importanti cambiamenti anche dei servizi che vengono erogati ora potrebbero essere percepiti come una commodity anche per effetto dell'evoluzione, la digitalizzazione, i servizi che vengono offerti anche su altri canali. Quindi è importante che la consulenza venga vissuta come un servizio personalizzato sul cliente a fortissimo apporto anche avendo riguardo quelle che sono le caratteristiche specifiche del cliente e delle situazioni che ci vengono richieste di valutare, di affrontare. Certo, allora io faccio i complimenti a lei, faccio naturalmente i complimenti a tutto lo studio perché siamo partiti da lì e ringrazio l'Avvocato Romina Guglielmetti, complimenti per questo premio boutique di eccellenza dell'anno Corporate Governance StarClex e ai prossimi insomma ci rivedremo nei prossimi mesi per fare anche un aggiornamento rispetto alle evoluzioni di cui lei ci accennava. Molto volentieri, grazie ancora a nome di tutti. Questo se lo può prendere.